Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Fyodor Dostoevsky Buongiorno Stefano, bentornato in questo Edway The Podcast. Buongiorno Andrea, siamo pronti direi a svelare l'identità del nostro primo ospite, il quale, ironia della sorte, è lui stesso ad ospitarci per la puntata odierna, dando anche al sottoscritto e all'esimio collega l'opportunità di tornare a registrare in presenza dopo tempo in memore. Detto questo, e andando oltre, siamo qui in compagnia di Paolo Arienti, nativo di Piadena, sacerdote, professore, ex assistente scout, attuale presidente della Federazione Oratori Cremonesi. Don Paolo può essere presentato a tutti gli effetti come un addetto ai lavori, un professionista del settore pedagogico. Come mai abbiamo chiesto proprio a lui di fare un affondo sulla tematica del carcere, ovviamente declinata in ottica educativa, lo lasciamo spiegare al diretto interessato. Don Paolo, benvenuto ai due dei podcast, a te la parola. Grazie, grazie per l'invito, sono molto contento di essere qua con voi e di poter chiacchierare su un tema così importante, così decisivo, come dicevate prima voi, anche proprio nella sua declinazione pedagogica. Io ho incrociato il carcere, potrei dire, per motivi di lavoro, cioè perché proprio sono stato mandato a realizzare qualche percorso di incontro, di catechesi, di ascolto, di lettura della parola e poi ho avuto la grande occasione di ritornare in carcere con gruppi, gruppi di studenti, gruppi di giovani della nostra pastorale giovanile che negli anni hanno visitato la struttura di Cade il Ferro, che è il carcere circondariale di Cremona, cercando di realizzare qualche percorso di ascolto e di interazione con i detenuti. Quindi un'esperienza dall'esterno ma anche dall'interno con relazioni di prossimità e di attenzione che si sono nel tempo costruite. Grazie per questa cornice che ha fatto emergere fin da subito la tua competenza in materia. Ti incalziamo e linkandoci a quello che è stata la frase con cui abbiamo aperto la puntata odierna, ti chiediamo un po' di raccontarci qual è il grado di civilizzazione della nostra società. Come si dice, questo dipende molto dal grado di operatività e di bellezza e di bontà delle cosiddette zone periferiche della società. Pensiamo agli anziani, ai piccoli, alle persone fragili. Sicuramente il carcere è uno degli indicatori di fragilità sociale per cui quello che noi vediamo oggi nelle carceri italiane è esattamente specchio anche di quello che dicevi tu, quindi dell'indice di civiltà della nostra società contemporanea. Un indice altalenante e a chiaroscuro, a ombre e a luci, con tante fatiche, con tante situazioni che sono sicuramente da analizzare, da sostenere e da rivedere. Si parla spesso di riforma delle carceri e chiaramente è un capitolo molto complesso, molto articolato. In un libro che abbiamo presentato qualche tempo fa, Don, un paio di settimane fa, che si chiama Fine pena ora, di Elvio Fassone, che racconta appunto la storia di questa corrispondenza durata più di cinque lustri, come diceva il nostro collega Stefano, tra un ergastolano e il suo carnifice, così si può dire il magistrato che ha emanato la pena. Ecco, una parte del libro che abbiamo già letto in quella puntata e che voglio riproporre oggi dice Rieducazione è la prima delle parole faro del trattamento penitenziario. Sta scritta nella Costituzione e vieta la pena di essere solamente pena. Le fanno corona, reinserimento, risocializzazione e altre parole. Vorremmo tutti che questi obiettivi fossero raggiungibili e almeno qualche volta raggiunti. Ma la vita carceraria è un macigno che nemmeno le persone più oneste e la miglior buona volontà riescono a smuovere più di tanto. Sono affermazioni molto pesanti ma anche molto vere. Credo che sia uno spaccato molto realistico di quello che c'è in ballo quando pensiamo al carcere, quando entriamo in un carcere, quando parliamo con gli operatori che ci lavorano. Prima parlavo di chiaroscuro, di luce ed ombre. È proprio così. Nel testo si parla di macigno ma anche al tempo stesso del desiderio che la nostra Costituzione codifica di immaginare la pena come qualcosa di redentivo, come qualcosa di restaurativo della persona. È una lotta, è una sfida, è un confronto continuo perché l'ambiente carcerario è un ambiente fortemente attraversato da bravissime persone, da persone che ci mettono l'anima, educatori, sacerdoti, cappellani, direttori, guardie carcerarie, ma al tempo stesso anche un luogo dove confluisce un sacco di fragilità e l'incontro tra il desiderio e la realtà può fare scintille, può deludere e può anche aprire strade davvero molto molto belle. Non c'è una regola, non c'è un codice scritto che vale per tutti, c'è il destino di una vita e c'è quella alchimia così faticosa che proprio l'educativo presidia, cerca di aiutare, cerca di decodificare. Ma quanti sono i fattori in gioco in un'esperienza del genere? Tantissimi e quanto sono soprattutto le precarietà che una persona porta con sé. Fattori in gioco sono veramente molti. Prima di questo podcast stavamo parlando del fattore ambientale, in cito 1, e ti faccio una domanda Don, ancora che si rifà un po' al libro. Nella prima parte del libro, come avevamo già detto, l'ergastolano, salvatore nome di fantasia, si rivolge al giudice dicendogli se io fossi stato suo figlio forse in questo momento non sarei qua, ma forse sarei avvocato e magari sarei anche bravo. Proprio perché mettevi in evidenza la differenza di provenienza di ambienti diversi. C'è una frase molto bella di Papa Francesco che dice non so per quale ragione io non sono come uno che è in carcere, qual è la differenza tra la mia vita e la vita di coloro che sono reclusi, magari anche perché hanno effettivamente commesso dei fatti, dei reati, dei fatti riprovevoli. E' questo il mistero della vita che mette spesso in evidenza come noi siamo un po' appesi a un filo e l'alchimia dell'esistenza è davvero una questione di grazia, ma anche di dolore, ma anche ripeto di mistero nel senso pesante, profondo, indecifrabile della vita. A me è capitato di incontrare persone di grande intelligenza, di grande spessore umano, anche spirituale in carcere, che però hanno incontrato il male, l'hanno anche assecondato. E sappiamo che l'affascinazione del male è qualcosa di veramente straordinario. Se poi sei fragile, se poi sei solo, se poi sei in qualche modo catalizzato da qualche desiderio, si diceva una volta disordinato, è chiaro che poi precipiti. Io ricordo un professore universitario sudamericano che ha commesso un gravissimo reato, è arrivato in Italia, è stato subito fermato all'aeroporto, incarcerato nella nostra cara circondariale e questo uomo addirittura ha scritto un libro, un manoscritto, di cui conservo una copia, sull'amore, l'amore redentivo, l'amore che salva, però stava pagando con una pena altissima ciò che aveva realizzato, ciò che aveva commesso e ne era profondamente consapevole. Ecco, non possiamo che condividere un po' questo sguardo non giudicante che hai appunto messo in chiaro poco fa e hai parlato di spessore umano, di questo fattore umano che emerge. È una domanda forse un po' complicata, ma se riesci a renderci l'idea di qual è il livello di attenzione al percorso umano dei vari condannati? E questa è veramente una questione molto soggettiva perché sul campo si atterrano diversi fattori, penso a quello burocratico, penso a quello economico, penso al numero delle persone dedicate, penso alla massificazione di gruppo che automaticamente anche in percorsi che dovrebbero essere profondamente personalizzati, questo non accade evidentemente, una serie di fattori che rendono le nostre carceri spesso e volentieri degli edifici abbastanza anonimi, con un codice anche linguistico molto particolare, con un'idea di tempo, di spazio, di relazioni sicuramente molto particolari. Se non ci si passa dentro, se non si entra da quei portoni e non si attraversano quei cancelli, difficilmente ci si rende conto. Sembra quasi che quella umanità debba essere condannata, ma la domanda che io pongo sempre è in cosa consiste la pena? in cosa consiste la sostanza della punizione che la società infligge a persone che ovviamente anche meritano, per certi versi, una restrizione della propria libertà. tempo, spazio, immagino che siano dimensioni che vengano, se passiamo il termine, un po' alterate all'interno dell'ambiente carcere. Citavi i primi codici e citavi ancora prima della registrazione di questo podcast alcuni codici carcerari. Portaci magari un po' dentro. Vi porto un esempio molto concreto. Da tantissimi anni, attraversando i corridoi che portano dall'ingresso alle sezioni del carcere di Cremona, troviamo tre grandi orologi da stazione che sono fermi su orari diversi. Una coincidenza, sono semplicemente rotti, credo che nessuno abbia intenzione di sistemarli, ma quella simbologia indotta mi ha sempre fatto pensare alla grande sospensione del tempo nel carcere, nel carcere la pena passa attraverso il fatto che tu non sai quello che ti capiterà domani, un'attività, un colloquio, un'iniziativa, magari anche concordata con la direzione, non viene fatta conoscere perché di fatto il codice è il tempo è sospeso, il tempo è un tempo che tu non hai più a disposizione. Lo spazio è abbastanza auto-evidente, visto che i carcerati stanno in sezioni molto ristrette, in spazi anche angusti, Cremona per il momento non è un carcere sovraffollato, abbiamo da qualche anno aperto una sezione nuova che si vede anche dalla strada, è un grande padiglione molto alto, quindi problemi non ne abbiamo dal versante dello spazio fisico individuale, ma è chiaro che è uno spazio sbarrato, uno spazio codificato, uno spazio dove vai dove ti dicono di andare e vieni se qualcuno te lo dice. L'altro codice che ha sempre molto colpito il sottoscritto e tutti coloro che con me sono entrati in carcere è un po' il codice delle procedure che animano il carcere, quando un carcerato deve chiedere qualcosa fa la domandina, si usa questo diminutivo che racconta proprio un po' l'impressione che il carcerato sia una persona diminuita, una persona che deve in qualche modo essere accudita, perdonate l'espressione, un po' come un bambino, deve essere rieducato nella sua capacità di discernere, di decidere, la sua libertà non è a disposizione, anche nei codici comunicativi all'interno del carcere. Ecco, tu che richiamando le tue parole sei entrato in quei portoni e hai attraversato quei cancelli, se puoi, se ti va di condividere qualche stralcio di vissuto che hai potuto osservare, ascoltare, vivere e anche, immaginiamo, compatire. Ma io faccio riferimento a due o tre questioni, la prima è quella che colpisce chiunque entra in carcere quando andiamo con i giovani per delle attività di natura catechistica piuttosto che relazionale, abbiamo fatto dopo il nostro sinodo dei giovani due anni un'iniziativa che si chiamava e si chiama Belli Dentro, che voleva proprio portare i gruppi di giovani a contatto con i detenuti, quello che ti colpisce è la estrema gentilezza e correttezza. Sembra quasi che con questa gentilezza molto fisica, a parte questi mesi di pandemia, i carcerati vogliono per certi versi sdebitarsi di una nomea, di un atteggiamento che si sentono un po' addosso, uno sguardo giudicante che automaticamente ciascuno di noi deposita su di loro. Il secondo passaggio è una memoria personale, mi è capitato diverse volte di essere in una stanza molto piccola, chiuso con diversi carcerati di cui non conoscevo, se non per sommi capi, le motivazioni di detenzione e insomma qualche volta la paura mi ha attraversato. Però ho visto anche testimonianze molto belle di domanda sulla vita, di persone che pur non avendo strumenti intellettuali, culturali, scolastici, gente spesso anche analfabeta, si è fatta interrogare, ha capito che una mano veniva loro tesa e che era l'occasione un po' per ripensarsi. Dentro comunque una grande sofferenza e perdonatemi anche un grande squallore, perché non è un ambiente dove ci si va a riposare e dove la vita è bella. Uno squallore non voluto, uno squallore che non dipende da come sono colorati i muri, ma da come è compressa, schiacciata l'umanità e il rammarico è davvero che di fronte al mistero del male non abbiamo ancora trovato un sistema diverso, un'alternativa a qualcosa che sospenda il tempo, sospende la libertà, costringa la persona a rivedersi attraverso la detenzione che è esattamente ciò che abbiamo faticosamente superato, pensate al tema della schiavitù e al tema della dignità della persona. Abbiamo affrontato nel nostro podcast Don, qualche puntata fa, un pedagogista che era Don Bosco, parlando di prevenzione, credo che una delle risposte alla tua domanda, non abbiamo ancora trovato un altro sistema, stia proprio nella prevenzione, quindi andare un po' a monte. Ti chiedo una riflessione su questo e vado un po' oltre, perché quando pensiamo un po' al carcere, pensiamo se